Costiera Amalfitana, traffico limitato in stile 5 terre, corsia unica per i pullman e nell'immediatezza la riapertura della SP2 del Valico di Chiunzi, decongestionando così la statale 163 e la ricetta del presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. Noi come provincia abbiamo sottoscritto il protocollo d'intesa che è stato proposto dalla prefettura dopo tantissime riunioni fatte con i sindaci della Costiera, quindi sosteniamo quell'iniziativa concordata con la stragrande maggioranza dei sindaci, qualcuno poi alla fine non ha sottoscritto questo protocollo, in particolare minori e maiori, ma per adesso l'impegno è quello sottoscritto lì in quella sede. Ovviamente proponiamo per l'anno prossimo questa questione della ZTL, quindi lavoreremo, hanno chiesto gli altri sindaci di avere un altro po' di tempo per maturare questa possibilità della ZTL e quindi abbiamo rinviato di un anno questa questione. Ovviamente stiamo dando una mano anche con la polizia provinciale a sostenere, voglio dire, nei weekend le attività delle polizie locali e ce la metteremo tutta anche con i lavori. Per esempio come provincia e regione stiamo lavorando sulla SP2 che scende dal valico di Chiunzi per riaprire l'altra corsia e quindi far sì che nel mese di agosto ci sia un traffico regolare sia a scendere che a salire dal valico di Chiunzi per raggiungere dall'Agroncirino e dal napoletano la costiera amalfitana. Ovviamente in quel caso decongestioniamo un po' la statale 163, quindi stiamo lavorando con i rocciatori a Pucara, frazione di Tramonti, per riaprire la viabilità. Ce la mettiamo tutta, sarà un anno difficile. Ce la si farà per quest'estate? Assolutamente sì, per la fine di luglio abbiamo l'obiettivo di riaprire il valico di Chiunzi, la SP2 con l'intera carreggiata. Invece il discorso della ZTL è molto interessante a cui faceva riferimento per la prossima stagione un po' sulla scorta delle 5 terre della costiera Ligure. Cercare di fare anche una corsia unica per i pullman, quella di entrare e di uscire dall'altra parte, secondo me sono delle proposte sostenibili sia per gli operatori del turismo ma anche per le amministrazioni comunali. E che non graverebbero sul flusso di turisti? Penso assolutamente no, perché in effetti ci sarebbero le stesse entrate e le stesse uscite, solo che in maniera un po' più ragionata, evitando questi incroci, razionalizzato e quindi basta un po' di organizzazione. Cerchiamo di maturare anche questa posizione durante questo inverno, nel frattempo cerchiamo di assicurare tutti insieme una stagione che è partita un po' in ritardo, ma per la quale si sta recuperando perché il tempo è bello, sarà bello per tutta l'estate, si parla di un'estate calda, speriamo che non lo sia anche dal punto di vista del traffico e della viabilità.